Finna qua ha sentito dell'idea del governo di tenere chiusi i centri commerciali, la grande distribuzione della domenica, lei che ne pensa? Penso che i problemi del paese siano altri, ancora una volta non si centrano i problemi del paese sinceramente, non mi sembra una priorità, soprattutto se devo essere sincero, poi sul tema la possiamo pensare come vogliamo, ma trovo un po' curioso che sia il governo in modo autoritario a decidere se un'attività economica debba essere aperta o chiusa, è qualcosa che mi ricorda altre epoche storiche.